Hello, welcome back to my channel, I'm here today to prepare a reaction to Napoli-Atalanta, a partita fondamentale dopo la victoria di Milano e per assolutamente vincere Tarakus. opinion policy, contempt, panini, nazna, alem, pr oliscardaforella dopo la victoria di Milano e per assolutamente vincere il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.